Saluti, miei cari, io sono Creon del Servizio Magnetico. Alcuni sostengono che dovrebbe volerci più tempo, all'essere umano, che siede qui, per assimilare quell'energia, che è lo spirito. Dicono che, affinché questa energia avvolga il suo corpo, per avere una confluenza di energia, che sia notevolmente simile al ser superiore, ci vuole più tempo. E noi vi diciamo che è così che va in questa nuova energia. Ce l'avete davanti. C'è un vecchio paradigma di linearità, che vi dice di adorare e pregare a orari specifici e voi eseguite ad orari specifici. Questo è compartimentalizzare Dio, no? E se quello che è il Sé superiore fosse sempre stato pronto? E se lo portaste con voi ad un livello così alto, che è diventato voi? Se ogni parola, che pronunciate provenisse da esso. Se ogni volta, che un essere umano vi guarda, aveste nei vostri occhi compassione per lui, per quello che litiga con voi, per quello che vi insulta, per l'autorità, che non gradite. Vi piacerebbe poterli guardare e vedere prima la compassione e poi placare qualsiasi altra cosa avvenga emozionalmente. Quindi, quando siedo qui, ho istruito il mio partner ad essere compassionevole con tutti e questo mi consente di entrare istantaneamente. Ed eccomi qui. È tradizione, che quando siedo in questo luogo Geithersburg, fornisco un riepilogo di quello che sta succedendo sul pianeta. Perciò terrò fede alla tradizione. Alcune delle cose di cui vi parlerò e di cui discuteremo le ho già dette, in precedenza e più di recente, in altri continenti. Alcune le ho dette pure in questo. Questo, comunque, diventa un riepilogo come non l'abbiamo mai fatto, in modo, che possiate ascoltare insieme. Noi parliamo nell'amore. Vi diciamo le cose, che stanno succedendo dalla nostra prospettiva e vi ricordiamo ciò che sono. Ma, in tutto quello che vi dirò, sottolineiamo questo tutte le cose, che stanno succedendo sul pianeta vengono lentamente. Dovete iniziare a pensare ed osservare in gruppi di generazioni, non semplicemente anno per anno. Cara vecchia anima, usa quella saggezza, che hai raccolto durante le molte volte, che sei stata su questo pianeta, proprio adesso, per poter comprendere meglio questo messaggio. Devi capire che deve passare del tempo, per il solo motivo, che i bambini, che verranno non avranno la medesima coscienza dei propri genitori. Dunque, voi state guardando ciò che è generazionale, ma che sta accadendo davanti a voi. Di nuovo, tutte le cose di cui parliamo oggi sono date con amore. Le predizioni, che fornirò saranno basate su ciò che è più propenso ad accadere, perché è il potenziale più forte della sincronicità di coscienza sul pianeta. La coscienza viene sviluppata quotidianamente. Anche se abbiamo appena parlato di qualcosa che richiede un tempo molto, molto lungo, la coscienza cambia. Cambia radicalmente, dato che è un riflesso dell'umanesimo. Essa proietta le cose in direzioni, che a volte sono veloci e altre no. Perciò, quelle cose, che vi dirò oggi, domani potrebbero cambiare. Ma, mentre siedo su questa sedia, vi darò i potenziali più forti, che ci sono. La nave potrebbe virare rapidamente e sorprendere tutti, ma le occorre ancora parecchio tempo per giungere a destinazione. Parleremo di molti argomenti, ma, prima di farlo, io sono consapevole dell'ascoltatore, sono consapevole del lettore, sono consapevole di colui che proprio ora occupa la sedia. Non siete contenti di essere venuti? Sentite l'energia, che spinge verso di voi in questa stanza e vi prepara per un messaggio, che è bellissimo, che si congratula con voi per le cose più difficili, che abbiate mai fatto? Perché quasi tutti qui hanno più di undici anni risate. Avevate una scelta? Al vento di nascita il nome, che criò onda al momento in cui stiamo per entrare sul pianeta, noi vi abbiamo guardato e abbiamo detto l'armageddon in combe. Da un'occhiata. Non c'era niente, quando veniste su questo pianeta, che vi desse la minima speranza che, nel 2011, sareste stati seduti al sicuro su una sedia. Niente. I vostri padri e i padri dei vostri padri hanno patito le guerre e le conquiste su questo e su altri continenti, e l'odio dell'uomo verso l'uomo era grande e come lo è sempre stato. Non c'erano segnali che la cosa sarebbe mai migliorata. Eppure voi veniste ugualmente, perché c'era il potenziale di ciò che ora ha effettivamente avuto luogo? Nel 1987 una convergenza armonica spinse letteralmente la coscienza in un luogo, che non vi aspettavate, poi, tutto cambiò. Anche prima di quella, le cose si stavano preparando al cambiamento. Ma non quando nasceste voi. E così, non solo vedo vecchie anime qui in sala, ma sto parlando anche a molte di loro che ascoltano con le loro orecchie più tardi, nel vostro tempo, e leggono queste parole più tardi, nel vostro tempo. Sto parlando a vecchie anime coraggiose. Perché su di voi incombeva l'idea di un confronto, un armageddon, una guerra nucleare e voi lo sapevate, quando accettaste di venire. L'ho rivisto così tante volte. Poi l'unione sovietica cadde da sé. E allora, e allora così tante cose, che non vi aspettavate. Gaia e le vecchie dicerie. Ecco dove siete oggi. Parliamo per prima cosa di Gaia e, se dobbiamo parlare di Gaia, dobbiamo parlare delle cospirazioni. Perciò adesso parliamo di quelle cose credute non necessariamente dalle vecchie anime presenti in sala, ma da alcune di quelle che ascolteranno e leggeranno. Si dice che tutti questi cambiamenti sul pianeta siano in preparazione di qualcosa di orribile e molti ne hanno parlato e alcuni l'hanno anche profetizzato e canalizzato. La Terra interromperà la sua rotazione per tre giorni e poi riprenderà. Ah, qualcuno dice che la Terra si capovolgerà, che il Sud diventerà il Nord e il Nord diventerà il Sud. E poi ci sono altri che dicono ancor prima che questo accada, ci saranno navi, che chiamerete dallo spazio per venire a prendervi. Naturalmente, non tutti quanti, solo qualcuno. Allora, parliamo di questo e mettiamolo via una volta per tutte. È ora della responsabilità spirituale. Potete credere a queste cose, se lo desiderate, perché forse sono state canalizzate e magari, in quel momento, vi sembravano buone. Ma parliamo della realtà di queste cose. Prima profezia Se la Terra si capovolge, sono tutti morti. Gli oceani schizzano nello spazio, tutta la vita cessa di esistere e il pianeta diventa una roccia incandescente. Vi piace fin qui? Seconda profezia La Terra smette di ruotare per tre giorni. Dunque, all'Equatore viaggiate approssimativamente a mille miglia orarie. Si ferma tutto. Di nuovo, se si ferma all'improvviso, tutto quanto schizza via nello spazio, compresi gli oceani e l'atmosfera, e tutta la vita è terminata. A proposito, non importa quando comincerà a ruotare di nuovo, sono morti tutti. Quindi il ricomincia dopo tre giorni è opinabile. Cosa ve ne pare, fin qui? Se cominciate a usare il discernimento spirituale e prendete quello che è stato detto dagli antichi e dalle recenti canalizzazioni, quelle profezie vi suonano come il futuro della Terra? È per quello che siete seduti su queste sedie o state ascoltando questa canalizzazione? È questo l'amore di Dio al suo meglio? Pensate davvero di essere nati per poi morire in questo modo? Noi vi diciamo è tempo di sentire l'amore di Dio. Il dottore sa qualcosa e ne discute di rado parla del dottor T.O. di Dio Vocaitis, in sala. Anche gli astronomi sanno qualcosa e non ne parlano. Ovunque essi guardino, nell'universo, c'è una confluenza di energia, che è creativa e benevolente. Gli astronomi definiscono questo attributo di segno intelligente. Statisticamente, doveva esserci qualcuno a progettare tutto questo, dicono. È troppo bello e contro le probabilità, è troppo considerevole. È fuori dalle possibilità della casualità? Chiedeteglielo. Verificate. Il dottore è un'invenzione quantica e, ovunque la punti, essa cura. Quante probabilità ci sono? Perché dovrebbe essere così? Sì? Solo perché è un'energia quantica, non significa che sia sempre giusta, no? L'energia quantica, in fisica, è sempre benevola. Se lo è, questo vi dice che c'è qualcosa nell'energia creatrice, che è quantico, e che sa chi siete. C'è un'intelligenza coinvolta nell'energia innata della fisica, che è propensa alla vita. Pensateci. Quindi, in quelle profezie, pensate per un momento, che tutta la creazione sulla Terra arriverà ad un crollo, che la ferma? O, a proposito, parliamo delle astronavi, che verranno a prendervi? È ora, che vediate tutta quella mitologia per ciò che è. Ogni singola cultura, attraverso le epoche, ha avuto una sorta di piano di salvataggio. E, sia che i maestri dovessero arrivare a prendervi e tirarvi su dalle vostre sedie, sia che venissero a prendervi le astronavi, lo scenario è sempre lo stesso. Guardatelo per quello che è. La mitologia, che dice che non siete buoni, che la Terra sarà distrutta e che dovete essere salvati. Vedete lo schema? È con voi oggi, nei moderni sistemi di credo ed era anche con gli antichi. È un attributo totalmente a base umana e deriva dalla paura. Quindi, è il momento, che capiate che questa è la mitologia di un'energia vecchia. La verità è che state salvando voi stessi ogni singolo giorno, perché state cambiando la coscienza di questa Terra e seminando i semi della pace sulla Terra, che i vostri figli, e i figli dei vostri figli, potranno vedere realmente e a cui potranno prendere parte. Voi oggi sedete sulle sedie sapendo questo. È tempo di vedere le cose per quello che sono. A tutti coloro coinvolti in tutte queste cospirazioni noi piangiamo per voi, perché alcune di voi sono anime vecchie. Oh, guardate che cosa potreste fare, invece di andare in cerca della catastrofe. È ora di smettere, di volgere lo sguardo sul vostro Sé superiore e di usare la vostra compassione per le migliaia di senza tetto. Questo aiuta il pianeta. Volgete gli occhi su coloro che hanno perso la propria famiglia in quest'ultimo mese o giù di lì. Quello aiuta il pianeta. La paura non aiuta niente. La compassione crea energia quantica. La paura crea oscurità. Gli illuminati oggi. C'è di più. Parliamo dell'elefante nella stanza. Ci sono molti operatori di luce, che avvertono ancora la presenza di un gruppo di potenze finanziarie, chiamatele come volete illuminati è il nome più comune, che si suppone stiano controllando tutto. Per coloro che la pensano in questo modo, tutti i mercati finanziari sono controllati. Tutti i governi sono controllati. Le elezioni sono controllate e tutto il denaro della terra è controllato. Allora, adesso vi chiederemo di usare un po' di logica spirituale. Se esiste ancora oggi una simile organizzazione, con quel tipo di potere, che controlla tutto, stanno facendo un pessimo lavoro. Perché il modo in cui essi fanno soldi è nella stabilità, non nel caos. Qualcuno dirà oh, no, no, no fanno soldi vendendo armi. No, non è vero. Lo fanno gli umani normali. Sapete come fanno la maggior parte del loro denaro? Scambio di denaro. Spedizioni. Tutte le cose, che devono esserci in un'economia stabile. Se stanno controllando le cose, stanno sbagliando. Sapete come si fa a capire quando c'è controllo su un mercato azionario? Perché si muove poco. È sempre lo stesso, con piccoli aggiustamenti per dare beneficio a chi controlla. Va un po' su e un po' giù, proprio come ai tempi di vostro padre e di suo padre. E, quando crolla, crolla alla grande. E poi risale molto, molto lentamente. Questo è indice di un mercato controllato, in cui si perde l'equilibrio e non si può sostenere il controllo, per cui crolla. Così, quando questo avviene, c'è un'economia stabile e grandi quantità di denaro, che vengono introdotte e tolte molto gradualmente, di proposito, in modo da creare le oscillazioni desiderate. Ma mai troppo, né troppo poco per mantenerlo stabile. Ora, perché non tracciate la curva di come è stato recentemente il vostro mercato azionario? Poi date un'occhiata alle curve. Vi sembra davvero che qualcuno lo stia controllando? Un centinaio di punti qui, un centinaio di punti là e nessuno sa che cosa farà, perché non è più controllato. Dovete cominciare a usare la logica spirituale per queste cose, e vedere la verità. Una delle cose peggiori che sia mai successa agli Illuminati, fu l'Unione Europea, perché quell'idea portò via gli scambi di denaro. Stanno per farlo in Sud America, nella prossima generazione. Guardate, perché ci stanno pensando adesso, proprio mentre parlo. La natura umana sta cambiando. E' in vista un concetto nuovo, un cambiamento nella natura umana. Ne abbiamo già parlato. Quanti di voi hanno studiato la storia europea? E, a scuola, la vostra mente si è riempita di tutte le date che dovevate imparare a memoria? Chi conquistò chi e quando? Ancora, ancora e ancora, ogni singolo paese ha conquistato, a turno, un altro paese. I confini si spostavano costantemente. Per quanto risaliate indietro, è quello che facevano gli umani. Separavano, riunivano e conquistavano. Ma, appena 50 anni fa, tutto si fermò. Lo abbiamo già detto. 50 anni fa, un seme, un'idea fu piantata al termine della Seconda Guerra Mondiale. Mettiamo insieme questi paesi europei, dissero. Togliamo addirittura i confini e infine diamo loro un'unica valuta. Fatelo ed essi non si faranno mai più la guerra, predissero, perché i paesi, che hanno fonti economiche comuni non si fanno la guerra. Ed è esattamente quello che è successo. Ha funzionato? È piuttosto fresco, ma il loro denaro minaccia di sopraffare la forza della vostra moneta, ve ne siete accorti? Vale più del vostro. Stanno ancora lottando per farlo funzionare e tenerlo in equilibrio. Ma, ripeto, voi fate la stessa cosa negli Stati Uniti, regolate finemente l'unità. Il Sud America, proprio adesso, sta prendendo in considerazione la stessa cosa. I semi vengono piantati in Brasile. Entro una generazione, essi decideranno di eliminare i confini e avere un'unica valuta. Possono farlo? Forse. Forse ci vorrà più tempo. Perché farlo? Perché vedono l'Unione Europea con la valuta più forte della Terra? L'abbiamo già detto. Ecco una predizione forse non nel vostro tempo, ma verrà un giorno in cui nel mondo ci saranno soltanto cinque valute, perché i continenti inizieranno a capire che l'unificazione crea pace e prosperità. La separazione crea il caos. Che concetto? Il clima. Parliamo del clima. Ci riallacciamo precisamente a quello che vi abbiamo già detto proprio da questa sedia. Il ciclo dell'acqua è un ciclo di raffreddamento, non di riscaldamento. Avrete tempeste e inverni più inclementi. Si farà più freddo. Ma si fa più caldo, prima di farsi più freddo. Il ciclo è così ed è sempre stato il ciclo. Potete vederlo negli anelli degli alberi e nei nuclei del ghiaccio. Non lasciate che gli scienziati vi coprano gli occhi con la coperta della politica per i propri scopi. Cominciate a vedere le cose per quelle che sono. E' un ciclo ricorrente, basato su quattro attributi di allineamento della Terra, oscillazione compresa la precessione. Voi vi trovate in questo ciclo. Preparatevi. Gli inizi di questo vi accompagneranno da adesso fino almeno alla fine della finestra 2012-2036. Potete vederlo all'opera. La prima cosa, che succede è che il ghiaccio dei poli si scioglie, ma non completamente. E' il modo in cui è già successo prima. Mentre si verifica la ridistribuzione del peso dai poli e gli oceani della Terra, il peso viene ridistribuito sulla crosta e questo provoca terremoti, e i terremoti più potenti saranno quelli più prossimi ai poli. Ve lo diciamo un po' di tempo fa. Quindi, non è un mistero il fatto che, all'improvviso, abbiate alcuni dei terremoti più potenti che abbiate mai visto. Non solo, ma un oceano, che si raffredda crea tempeste più grandi. Che cosa fanno i cospirazionisti con tutto questo? Vedete? Siamo condannati. Sta arrivando, dicono. Arriva. La fine è qui. 22 anni fa, vi demmo l'informazione, che si sta verificando oggi. Vi parlammo del clima. Vi dicemmo di prepararvi, ma non vi avevamo ancora detto perché è necessario il ciclo dell'acqua. Vi abbiamo accennato, perché è controverso, e perderemo molti lettori, proprio adesso, qui. Ecco la predizione. Gli scienziati rideranno e i biologi si gratteranno il capo, facendo roteare gli occhi. Il rinnovo del ciclo della vita. Quando cambiate la temperatura delle acque del pianeta, questo altera il ciclo vitale dell'oceano e, infine, esso si rinnova. Il ciclo vitale del pianeta ha un limite alla propria vitalità nel tempo. Deve esserci un rinnovo del ciclo di vita stesso ed è questo che fa il ciclo dell'acqua. C'è qualche posto in cui, ultimamente, avete visto troppo pesce? Sì. Milioni di salmoni al nord. Strano che fosse in Alaska, no? L'Alaska è vicinissima al polo, dove la temperatura dell'acqua viene avvertita per prima. Oh, di nuovo, gli esperti vi diranno che il motivo non è quello. Che è questione di vivagli e fiumi. Ma non l'aveva previsto nessuno, vero? La scienza fa presto a darvi dei motivi, ma è lenta a fornire la logica in anticipo. Sembrano sempre sorpresi. Stiamo dicendo cose che non abbiamo mai detto prima. Ripeto, fate attenzione a questo, un effettivo cambiamento nel ciclo vitale degli oceani del pianeta, per via del cambio di temperatura dell'acqua e biologi dovranno mettersi a ridisegnare il paradigma di come tutto funziona, comprese le barriere coralline, i fondali oceanici e il modo in cui il plankton vive e si riproduce. Ascoltate, questa non è la prima volta, che il ciclo vitale viene rinnovato. Ma, di nuovo, potrebbero volerci generazioni di umanità per il suo completamento. Nel frattempo, potreste perdere nuovamente delle specie. È normale. Gaia è lenta e gli umani sono impazienti. I vostri libri di testo, un giorno, potrebbero raccontare di quanto fosse ingenua l'umanità, nel lontano 2011, quando cercava di incolpare dei cambiamenti atmosferici tutto tranne un ciclo naturale. Adesso sapete perché c'è un ciclo dell'acqua? Allora, questo che cosa vi dice di Gaia? Gaia sta avviando il ciclo per rinnovare la vita in oceani troppo ricchi di pesce. Vi dice che tra le righe ci sono amore e cura per gli umani, che vivono sulla Terra. Ecco uno dei motivi per cui siete qui. C'è un piano, qui, e un universo benevolo ed energia quantica con un disegno intelligente. Tutto è qui per te, prezioso e sacro essere umano. La nuova coscienza. Guardate storicamente il pianeta, nel corso degli ultimi 50 anni e vedrete una guarigione graduale dell'umanità un riunirsi, non un dividersi. Dopo la caduta dell'Unione Sovietica, ha iniziato a verificarsi molta coscienza di questo tipo, tranne che nel Medio Oriente. 22 anni fa vi dissi come vanno gli ebrei, così va la Terra. Quindi voi sapete, non è vero, che ad un certo punto del vostro futuro, dovrà esserci un cambiamento radicale in Medio Oriente? Non potete avere delle società, che insegnano ai propri bambini a odiare un certo tipo di persone per la loro nascita e poi aspettarsi la tolleranza nella propria cultura. Per migliaia di anni, è stato insegnato loro, proprio fin dalla nascita, a odiarsi l'un l'altro. Tuttavia, improvvisamente, sta nascendo un nuovo genere di bambino, un bambino molto meno lineare e molto più concettuale. È un bambino, che non riceve questo tipo di istruzioni informative, agendo poi di conseguenza come si faceva prima. Questi, invece, chiedono perché? Loro, invece, si guardano intorno e vedono il buio, che questo genera. Voglio che osserviate quel che è successo in Egitto. C'è un nuovo tipo di paradigma di socializzazione, che si sta sviluppando sul pianeta, e i giovani lo sanno. Arriva soprattutto da quelli che hanno meno di 35 anni. Molti adulti più anziani non lo capiscono, perché a loro sembra soltanto una moda. Dicono che i bambini trascorrono anche troppo tempo su internet. Cosa è questa cosa della faccia? Ndti faccia uguale face riferimento a face book. Tornate indietro di oltre un decennio e ascoltate che cosa vi dissi. Dissi quando tutti potranno parlare con tutti, non potranno esserci cospirazioni. Ve lo ricordate? Beh, eccolo qui. Un nuovo sistema sociale. C'è un nuovo tipo di sistema sociale, un nuovo modo di comunicare, in cui tutti possono parlare con tutti, tutti in una volta. A milioni possono farlo, senza confini o scontro di culture. Date uno sguardo all'Egitto. Ha confuso tutti quelli che occupano le poltrone del potere non lontano da qui Washington dici. Il modo di pensare della vecchia energia ha paura, perché c'è un vuoto senza alcun leader emergente. Vedete, tutti sanno che deve esserci una leadership, deve esserci una gerarchia. Devono esserci tutte queste cose, per poter creare una rivoluzione. Bene, lasciatemelo dire, questo è un pensiero vecchio vecchio. Perché avete appena visto la rivoluzione di coscienza senza leadership, senza gerarchia, senza nessuna persona, che frusta le altre per incitarle e convincerle a fare qualcosa. È successo tutto insieme, quasi come se ci fosse un'onda di coscienza, che si propaga sul pianeta. C'è. Quando tutti possono parlare con tutti, è questo che ottenete. I dittatori lo sanno, perciò, la prima cosa, che desiderano chiudere sono i nuovi strumenti di comunicazione. Voglio spingermi oltre. Andiamo sul personale e intervistiamo un siriano o un libico. Parliamo un momento con un egiziano. Troviamo l'uomo della strada e poniamogli qualche domanda. Vi dirò quale domanda. Che cosa vuoi? Ecco che cosa vi risponderanno. Vogliamo scegliere che cosa fare nella nostra terra. Vogliamo indietro la gloria della nostra cultura. Vogliamo abbondanza nelle nostre case e città. Vogliamo le scuole. Vogliamo avere alcune delle cose, che il resto del mondo possiede. Vogliamo prendere alcune delle cose, che il nostro paese ha in abbondanza e condividerle con i cittadini. Vogliamo che i nostri nipoti siano al sicuro. Vogliamo dei buoni ospedali. Ecco che cosa vi diranno. Allora, perché vi dico questo? Perché da nessuna parte, nella loro retorica, c'è e vogliamo uccidere gli ebrei. Perché sono più intelligenti di così e stanno diventando concettuali e cominciano a capire questa premessa. La guerra è un inferno. Essa conduce al dolore, alla morte, alla distruzione e al crepacuore. Crea povertà e carestia e loro lo sanno. Loro guardano l'Europa. Si guardano attorno e cominciano a vedere l'unificazione come risposta a quello che vogliono per i loro figli. Non vogliono la guerra. Non vogliono la guerra. Magari non gli piacciono gli ebrei, ma adesso capiscono che, per poter avere davvero ciò che vogliono, devono lavorare insieme a loro. Quindi, le sommosse che state vedendo, miei cari, non sono quello che credete, o che vi viene raccontato. Non preoccupatevi, pensando questo è l'inizio della fine. O, avrà un'energia altalenante, avrà paura. Avrà persino quei leader terroristi, che vogliono controllarla. Vi verrà detto questo è quello, ma, alla fine, entro un decennio, quando potrete andare là e dare un'occhiata, avrete degli stati, che sono in pace con Israele. Una delle cose più controverse, che vi abbiamo detto è questa. La pace in Medio Oriente non deriverà da qualcosa che fa Israele. Arriverà da quello che faranno gli stati islamici. I giovani, là, non vogliono una guerra. Ora, tutto ciò che dovete fare è convincere di questo gli ebrei, in modo, che non ne creino una propria. Capite il senso di tutto questo? La coscienza superiore e il pensiero concettuale portano una rivoluzione, che non è rimpiazzata da un altro dittatore. I dittatori stanno cadendo. Gli esseri umani in queste aree del Terzo Mondo vogliono tirare su le loro famiglie così come fate voi in pace, sicurezza e stabilità. La prova è dappertutto. Che cosa è successo negli ultimi 50 anni? Venite in Sud America con me. Quanti dittatori c'erano allora laggiù e quanti ce ne sono adesso? Ce ne è rimasto uno e ai giorni contati. Osservatelo, perché vorrà allearsi con altri dittatori e non ce ne sarà nessuno. Un'economia controllata fallirà assolutamente. La sua sta cominciando a non funzionare. Questi dittatori stanno cadendo perché rappresentano un paradigma della vecchia energia, una natura umana vecchia. Sta prendendo piede una nuova coscienza. Guardate il quadro d'insieme. Uscite dalla paura e comprendete di nuovo, che il tempo per voi è lento e queste cose sono generazionali, non stagionali. Ci saranno battaglie vinte e perse per la coscienza elevata. Ci sarà un paese, che sembrerà persino andare un po' indietro, prima di andare avanti. È in questo modo, che funziona il tempo e funziona la coscienza. Ecco la predizione, che vi abbiamo dato voi state cominciando a vedere i semi della pace in Medio Oriente. Non nei notiziari, ma nelle nuove aree sociali, con i giovani. E, quando essa si stabilirà, la questione più grossa saranno ancora i palestinesi. Ma, forse per la prima volta, i loro fratelli islamici, nei paesi circostanti, cominceranno a includerli invece di non includerli come stanno facendo adesso. Prestate attenzione alla compassione della fratellanza non alla guerra, ma alla pace e la stabilità finali. E sì, ci saranno quelli che ti diranno l'esatto contrario, carissimo. È questo che vediamo. Accendete i vostri notiziari e lo vedrete. Ma lo vedete graficamente, vero? E vedete la tristezza e la morte, perché quello è più drammatico. Pensate solo a quelli che sono venuti su questo pianeta per dare la propria vita e sacrificarsi per qualcosa di grandioso la pace nella loro terra. È proprio ciò che faceste voi per creare questi Stati Uniti. Voi doveste farvi strada lottando, no? Somiglia a un vecchio paradigma, il fatto, che a volte dobbiate coinvolgere il ponte di spade fra il vecchio e il nuovo, ma, qualche volta, lo fate solo per farvi strada attraverso una natura umana, che è stata in un certo modo per migliaia di anni. Il Giappone. Parliamo per un attimo del Giappone e poi chiuderò la giornata dei messaggi. Ci sono migliaia di anime dalla mia parte del velo, e stanno bene, più che bene. Abbiamo parlato così spesso di quel che avviene al vento di nascita. Vi dissi che ancora prima di venire al mondo esse videro il potenziale. Le guardai negli occhi. Potresti non vivere a lungo. Lo sai, vero? Stai entrando su questo pianeta e potresti non restarci a lungo. E il trapasso, che avrai con la tua famiglia non sarà piacevole, se mai può esserlo. Perché mai vorresti venire comunque? Voglio dirvi che cosa risposero. Quando un anima ha la mente di Dio, essa comprende pienamente che cosa genera pace, e che cosa genera un cambiamento dell'energia. Potete vedere chiaramente che cosa genera ciò di cui il pianeta ha più bisogno, quando state per arrivare. Quindi esse dissero faremo parte di uno dei maggiori eventi di compassione, che il pianeta abbia mai visto. Un terremoto, uno tsunami? Tutti quelli che se ne sono andati quel giorno cambieranno la Terra per sempre. Ed è già successo. È stata la stessa cosa anche per l'ultimo tsunami? Ognuno di loro singolarmente, dalla mia parte del velo, si sta preparando a tornare. Molte vecchie anime erano coinvolte e, solo per un attimo, se potessero darvi qualsiasi informazione, se potessero parlarvi proprio adesso, se potessero parlare la vostra lingua e guardarvi negli occhi, vi ringrazierebbero per la vostra compassione per loro e per quelli che sono rimasti. E direbbero siate con i familiari, che sono rimasti. Entrate nei loro cuori ogni giorno e date loro pace e fate in modo, che non piangano, perché noi stiamo bene. Potenza nucleare svelata. Dunque, lasciatemi dire che altro hanno fatto. Vi hanno mostrato che cosa c'è di sbagliato con la potenza nucleare. Sicuro al massimo dicevano. I nostri dispositivi sono forti e non possono fallire. Ma è successo. Non vanno bene per Gaia. Sembra che da più di venti anni ogni singola volta, che sediamo sulla sedia e parliamo di potenza elettrica, vi diciamo che avete a vostra disposizione centinaia di migliaia di tonnellate di energia tira-spingi, con cadenza regolare. È regolata dalla Luna, per sempre. Essa può produrre tutta l'elettricità per tutte le città del vostro pianeta, indipendentemente da quanta ne usate. Non c'è alcun impatto ambientale. Usate la potenza delle maree, degli oceani e delle onde in modi intelligenti. Usateli in una maniera più grande di quanto qualunque progettista abbia ancora immaginato, per alimentare le vostre città. Idro è la risposta. Non è pericoloso. L'avete ignorato perché sembra più difficile da progettare e non è un ambiente controllato. Eppure, avete scelto di costruire uno dei più complessi e pericolosi motori a vapore della Terra, la potenza nucleare. Abbiamo anche fatto notare che tutto ciò che dovete fare è scavare sufficientemente a fondo e il pianeta vi darà il calore. È proprio sotto la superficie, sempre non troppo lontano. Avrete un motore a vapore di Gaia anche in quel caso. Non c'è alcun pericolo e non dovete scavare tanto. Tutto ciò che dovete fare è scaldare il fluido, e ci sono alcuni fluidi, che raggiungono l'ebollizione molto prima dell'acqua. Quindi noi lo diciamo e lo ripetiamo. Forse questo vi farà vedere che cosa c'è di sbagliato in quello che avete fatto e questo cambierà gli atteggiamenti della vostra scienza, per creare qualcosa di così bello e così potente per i vostri nipoti. Perché pensatevi sia stata data la Luna? Adesso lo sapete. L'universo benevolo vi diede un corpo astrale, che consente alle acque del vostro oceano di tirare e spingere, tirare e spingere con la regolarità più precisa che conosciate. Tuttavia, eccovi seduti lì, che ve la godete solo per guardarla, invece di utilizzarla. Potrebbe esserci un'energia enorme, per sempre gratuita, pronta ad essere convertita, quando progetterete i metodi per catturarla. È tempo. Perciò, in chiusura, capite quello che state vedendo? State vedendo disegno intelligente, energia quantica e coscienza elevata. State vedendo cambiamenti nella natura umana. State vedendo paesi, che mettono le cose insieme, invece di separarle. State vedendo quelli che non vogliono la guerra, e che invece vogliono la pace, buone scuole per i loro figli, sicurezza per le strade e voce in capitolo nel loro governo. Vi dicemmo che sarebbe successo in questo modo. Voglio che il mio partner, per un po', insegni queste cose, che ho detto, nelle sue conferenze 3D. Molti non sarebbero in grado di sapere queste cose altrimenti. Date energia a coloro che sono in lotta. Aiutateli a superare queste cose in maniera più facile. È questo che fanno le vecchie anime. Usate il vostro motore di compassione umana. Cambiate quel vecchio paradigma di lotta e, invece, accelerate le differenze, che si verificano senza conflitto e senza morte. Siate nel posto giusto al momento giusto e comprendete il vostro posto compassionevole su questa terra. Voi siete vecchie anime che stanno su questo pianeta e danno compassione ovunque possono. È questo il nocciolo. Questo è il combustibile di Dio e questo pianterà i semi della pace sulla terra. Non siete mai stati più vicini di così. Infine, cercate di ignorare ciò che potrebbe cambiare in negativo. L'abbiamo detto. Alcune cose potrebbero non andare lisce come pensate, perché queste cose richiedono tempo e vengono fatti degli errori affinché impariate. La recessione. La recessione è il risultato della vostra decisione di modificare il vostro sistema bancario. Gli Illuminati dissero a molti che questo non sarebbe mai potuto accadere. Perché? Perché il denaro grosso non si può toccare. E' semplicemente una cosa troppo grande per qualsiasi cultura cambiarlo ed essi contavano su questo. Beh, è stato appena cambiato. Capite che cosa state facendo, qui, in questo paese? Questo influenza l'intero pianeta. State cercando di riallineare l'integrità del modo in cui il denaro viene usato, stampato e prestato. Non si tratta dell'idea di un partito o di un governo. Entrambi hanno avuto una parte nel creare questo cambiamento. Forse questo getta un'altra luce su quello che vi è stato detto riguardo alla vostra economia? Quando potate un frutteto, per un po' esso sembra ferito e brutto. Poi, col tempo, sboccia in qualcosa di molto più grandioso di com'era prima. La Cina. Io sono Kryon. Vi ho appena dato i potenziali. A dite ma, Kryon, prima che tu te ne vada, hai lasciato indietro il più grande. Nessuno parla della Cina. Va bene. Vi darò un'altra predizione. La Cina è molto interessante, vero? Improvvisamente, questo vecchio paese si trova in una posizione strana. Possiedono il debito degli Stati Uniti. Qualcuno di voi direbbe questo non va bene. Non funzionerà. Quindi, lasciate che vi dica di che cosa si tratta. La sincronicità ha colpito, perché adesso la Cina capisce che, se mai vorranno essere pagati, dovranno allearsi strettamente con le valute occidentali e aiutare a creare abbondanza. Ecco la predizione. La Cina presto lascerà libera la Corea del Nord. L'alleanza si scioglierà o diventerà stantia. Ci sarà uno sconvolgimento politico in Cina. Non un golpe, né una rivoluzione. Nei circoli interni di quella che chiamate politica cinese, ci sarà una rivalutazione degli obiettivi e della politica monetaria. Alla fine, vedrete una rottura con la Corea del Nord, che farà sì che cada ancora un altro dittatore, e che avvenga un'unificazione con il Sud. Vi piace fin qui? Guardo vecchie anime che vennero coraggiose su questa terra, che siedono sulle sedie di fronte a me. Ci fu un tempo in cui non avreste mai pensato che sareste riusciti ad arrivare addirittura fino al 2011. Ma, grazie a quello che avete compiuto su questo pianeta, non solo siete ancora qui, ma vi state muovendo attraverso il cambiamento. Sono in arrivo tempi duri. Ma questo fa tutto parte del piantare i semi della pace. Non viene facile. Si muove lento lento, in una direzione positiva. I vostri nipoti guarderanno voi, quelli che non sono nemmeno ancora nati, che sono dalla mia parte del velo, ora vi stanno guardando. Stanno dicendo tenete duro. Perché quando arriveremo lì, sarà veramente un luogo di pace. E così è. Kryon Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.